buongiorno ragazzi buona domenica delle palme vi ricordate la settimana scorsa la settimana scorsa lunedì martedì quando feci il video e dissi mai come questa volta la sosta cade a pennello e possiamo dare il tempo a mister gotti di lavorare sulla squadra modellarla plasmarla a suo piacimento e niente non è vero non è vero perché io giuro quando c'è la sosta mi viene da darmi con una mazza sul ginocchio non ce la faccio proprio ok il sabato ci sta tanto il sabato ti diverti in altri modi il venerdì ma la domenica signori la domenica diventa un giorno di 86 ore non di 24 di 86 ore non passa mai e senza serie a io non ce la faccio la nazionale a me la nazionale non mi emoziona inutile non mi emoziona ma poi no hanno voluto fare una partita di quando era mercoledì o giovedì che ha giocato la nazionale non mi ricordo comunque la prima partita adesso quella col venezuela adesso giochiamo e oggi con con l'equador che poi alle 10 che orario alle 10 vabbè e poi c'è tutta la settimana dico non potevano mettere la partita mercoledì per esempio va bene ma sto dicendo cose sceme perché sto come pazzi che non ce la serie a comunque no la il vero video comincio adesso allora ho appena letto sul calcio lecce il sassuolo il sassuolo vuole sfruttare al massimo le quattro gare casalinghe e facendo dando la possibilità alle persone di pagare niente prima di tutto va bene mi sono messo a ridere quando ho sentito il sassuolo chiama raccolta tutti i tifosi tutti i tifosi non come 16 sono in tutto vabbè ma lasciamo perdere comunque addirittura si parla di prezzi che vanno dai 3 euro alla curva ai 5 euro alla tribuna dai 3 euro ai 5 euro e i bambini sotto i 12 anni entrano gratis allora caro presidente sticchi lamiani io ti voglio bene ti adoro ti amo lo sai una società senza di te un lecce senza sticchi damiani io non me lo immagino e ricordatevi sempre che quando parlo di sticchi damiani parlo di tutta la società il vicepresidente e il direttore responsabile dell'area tecnica e il direttore sportivo parlo di tutto noi noi dobbiamo sempre ringraziare sticchi damiani anche se a volte siamo nervosi per qualche partita cioè prendiamo con lui però io sticchi damiani voglio bene e vogliamo fare la stessa cosa a lecce vogliamo dare la possibilità di riempire lo stadio al massimo al massimo perché anche se noi raggiungiamo quei 23 24 25 mila spettatori tranne se poi quando vengono l'inter il milano la juventus tutti rinnegati che si comprano i billetti quindi lo riempiamo grazie a loro non grazie a noi cioè non vanno per vedere il lecce vanno per vedere l'inter il milano o la juve però adesso c'è la roma ci sarà l'udinese ci sarà adesso non mi vengono neanche in mente però vogliamo riempire questo stadio vogliamo dare la possibilità a questi giocatori di sentirsi spinti dal pubblico facciamo la stessa cosa mettete i biglietti a prezzi popolari fate entrare i bambini gratis facciamo la stessa cosa che sta facendo il sassuolo va bene non cerchiamo almeno in queste ultime giornate di non lucrare sul tifoso io capisco che i prezzi diventano stellari quando arrivano le big ma adesso diamo una mano a questa squadra e una mano a questa squadra si dà solamente con uno stadio pieno e colorato di giallo rosso va bene per favore presidente siamo arrivati a un punto dove ci siamo rimessi come primi in classifica delle squadre pericolanti cerchiamo di mantenere questo posto cerchiamo di mantenerlo ciao ragazzi